io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere delle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore q come queen che trasforma in versione rac qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni e questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attento al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità soprattutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me e se sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per ma e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità e il mio benessere curare i miei pensieri e stare attento al mio stato interiore e ogni giorno compiazioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata, supportata, ricoperta di amore, regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta e la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa, radiosa, unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa, amata, supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera, soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa, la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente, sexy, magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri, onesti, che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata, ascoltata, valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione Rack qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare, celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta, una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore, regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni e questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni e questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità e il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta e la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione Rack qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attento al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attento al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta e la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta e la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta e la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta e la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni e questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità e il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni e questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una la conoscenza è una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attento al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attento al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione Rack qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni e questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attento al mio stato interiore e ogni giorno compiazioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità soprattutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta e la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta e la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni e questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità e il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta e la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata è importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione Rack qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni e questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene con me stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione Rack qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attento al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desiderano mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta e la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata io sono perfetta così come sono io sono meravigliosa dentro e fuori io sono preziosa radiosa unica e mi merito il meglio amo sentirmi così bene come stessa amata supportata e importante io sono una donna di alto valore e la mia priorità è rendermi felice io sono la donna che ottiene sempre ciò che desidera soprattutto in amore la mia persona specifica o chiunque desideri è magnetizzata dalla mia essenza mi concedo sempre di ricevere il trattamento che davvero mi merito senza forzarlo o chiederlo io sono questa la donna più fortunata del pianeta in amore io resto sempre ferma nella certezza del mio valore a prescindere dalle circostanze esterne io ho una conoscenza e una pratica perfetta della manifestazione consapevole io sono sempre attraente sexy magnetica l'unica e migliore opzione per la mia persona specifica gli uomini integri onesti che vogliono impegnarsi con me e mi trattano come una principessa compresa la mia persona specifica sono magnetizzati nella mia vita tutti gli uomini già presenti e che desidero mantenere nella mia realtà mi fanno sentire amata ascoltata valorizzata e mi piace tantissimo sentirmi così io possiedo il fattore Q come Queen che trasforma in versione RAC qualsiasi uomo desideri basta solo la mia presenza adoro sentirmi sempre in modalità ricettiva nelle mie relazioni è questo che sono una venere da adorare celebrare e la mia persona specifica mi tratta proprio in questo modo io mi amo incondizionatamente io sono amora e ricevo costantemente offerte d'amore ed impegno sentirmi scelta una priorità è importante in tutte le mie relazioni è assolutamente naturale per me amare ed essere amata da chiunque desideri è sicuro per me tutte le gioie che entrano nella mia vita vengono sempre per rostare la mia priorità è il mio benessere curare i miei pensieri e stare attenta al mio stato interiore e ogni giorno compie azioni che lo dimostrano adoro sentirmi coccolata supportata ricoperta di amore regali e attenzioni sane dalla persona che amo amo sentirmi scelta è la priorità sopra tutto il resto per la mia persona specifica io vengo sempre prima di tutto la mia persona specifica mette sempre più energia nella nostra relazione rispetto a me è sempre pronta quotidianamente a portare la nostra relazione a un livello superiore il suo amore per me e il desiderio di avermi accanto per tutta la vita è più forte di qualsiasi cosa dentro di lui è sicuro per me amare ed essere amata